Ancora un altro anno di ordinanza per limitare il traffico sul ponte Buriano. Sono state infatti prorogate le modifiche alla circolazione veicolare lungo la strada provinciale Sette Ponti, già disposte con l'ordinanza dirigenziale dello scorso settembre, a stabilirlo una nuova ordinanza emessa dalla provincia di Arezzo. Dunque, anche per tutto il 2020, saranno così prorogate le attuali limitazioni al traffico per consentire i lavori di restauro e il risanamento conservativo del ponte romanico, che potrà essere attraversato unicamente da auto e veicoli sotto i 75 quintali. Si tratta della terza trans di lavori di restauro e consolidamento, l'ultimo step degli interventi finanziati dalla Regione Toscana per 700 mila euro. Buone notizie per il ponte e la sua viabilità alternativa, infine, potrebbero arrivare a breve. Il prossimo 16 gennaio, infatti, si riunirà la cabina di regia del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, attraverso la cui rimodulazione il Governo nazionale potrebbe individuare i finanziamenti per la loro realizzazione.